La partenza è di quelle che fanno sognare i tifosi di Formula 1 nel suo primo giro, cioè primo giorno di quotazione in borsa, il titolo Ferrari guadagna già il 6%, nonostante il prezzo di collocamento fosse stato fissato al massimo della forchetta indicata, cioè 52 dollari. E mentre auto nuove e storiche del Cavallino sono esposte in strada a Wall Street a far sognare i passanti, dentro le mura del Tempio della Finanza Mondiale il titolo Ferrari conquista il portafoglio degli investitori. Debutto col botto quindi quello del Cavallino rampante a New York, giornata memorabile sia per la borsa americana che per la casa di Maranello. Sul mercato insomma è arrivato un sogno e l'effetto rarità, solo il 10% del capitale della Ferrari infatti è stato messo in vendita e non ci sono altri titoli quotati comparabili, affatto il resto. La vera prova del 9 però sarà inizio 2016, quando la Ferrari uscirà dal gruppo Fiat Chrysler e si cuoterà anche a Piazza Affari a Milano. E a proposito della casa madre, è euforico l'amministratore delegato Marchionne, ma la giornata è stata rovinata dalla maximulta da 20 milioni di euro, inflitta dalla Commissione Europea per aver ricevuto vantaggi fiscali illegali dal Lussemburgo.